Sono Rocco Doria, io ce l'ho la linea, buonasera. Ah, buonasera. Control, control, control. Ma si sente male? No, forse mi sento, io no, no, non mi sento male, capisci che vogliete. Sì, ok, quindi non ha chiamato il dottore. No, è il control, control, facete l'analisi per telefono, vuoi. Per telefono no, però ci stiamo per attrezzare. E poi io mi andavo a fare subito che io ero a due dottori, franciologo, qualcosa di così. Eh sì, sì, quando lo vuole fare lei? No, no, se me potete fare mo' allo telefono. Così, ma ce l'ha l'app apposta per fare questo? L'app no, sono proprio l'appano io, non so se va buono. No, no, la pare ce l'ha all'app per fare le analisi e poi mandarle in tempo reale. No, no, ma dicono a me come io, che faremo i punti, non c'è il telemedio, se poterai faremo, e voi voi pigliate le facite cose. Eh, ma deve avere tutta l'applicazione adatta anche... No, no, c'è un sistema esterno. Oh, chi l'è? Eh, il sistema esterno, perché lei deve mettere praticamente un pallino che le diamo noi direttamente sul braccio e poi quindi può sapere la tua chitemia e quindi il diabete. Quindi c'è un pallino, cioè? Esatto, sì, è un kit che dovrebbe acquistare, lei l'ha acquistato il kit. No, che ti dico io, sinceramente no, lo sappia, un amico mio ha detto, chiamalo Control Control, che loro tu e te poi ci hanno detto, c'è mente il suo telefono, e lui ti dice un po' di strade, cose che c'è, che insomma tutti quanti da noi. Eh, ma deve avere il kit, altrimenti non lo sappiamo, poi mi rimando a me e io li riesco subito a mandare anche al suo dottore direttamente. Vabbè, allora chiamalo male, perché io sul kit, che ti dico, non è un maldito niente, l'amico mio, che ci vuole dire il suo coso. Eh sì, è perché è una sorta di pallino, come le dicevo, da mettere sul braccio e la monitorizza per sempre. Ah, hai capito. Ma questo per le cose, per la diabeta? Sì, 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 però... Io mi voglio fare tutto, mi voglio fare tutto. Io ce ne controlla tutto, il sangue, il sangue praticamente. Il sangue, tutti quanti poi dai scenari al telefono poi i risultati. Esatto, ci riescono sul telefono e poi vengono trasmessi in tempo reale anche a chi di dov'è, cioè può decidere anche lei se trasmette direttamente al suo medico, a noi che facciamo le analisi o anche a un ospedale se è il caso. Allora io, cosa mi potete dire, il suo kit alla farmacia, dove vinnano come rumenemagato? Esatto, sì, è un kit per il diabete apposta, che poi ha l'app predisposta sul telefono da scaricare. Eh, lo è di mandare rumenemattina alla dottoressa Stefania, io, che è la farmacista, che è nella farmacia mia. Ci ricordo, dottore, scusate, l'avete un kit, se illa mi fa domande, io, che te li dico, poi ci ricordo, ha capito, non ci può sorridere niente, giuri io, dopo, chi se l'ho fatto? Beh, lo usani, lo sai illa. E che dovrebbe saperlo poi, non so, e lei da dove chiama, mi sta dicendo? Il signor, al suo momento si chiama il signore di certi parenti, è l'appano, l'app, l'appano. L'appano, giusto che c'è, c'è l'app lì, è l'appano. E penso che qua, l'app, sulla teneria della farmacia, l'app qua, all'appano, figura dalle altre parti, che si chiama per esempio Castrovillare, che è quell'app, in cincia di napuncia, bro, non c'entra niente, dottore. No, ma lei la deve scaricare sul telefono, l'app, deve comprare il kit e deve scaricare poi l'app sul telefono, da qualsiasi posto, non c'entra l'appano o Castrovillare, mi scusi. E vabbè, però se si segnala l'appano, insomma, è più facile, sicuramente, non è che si fa fila. Se lo dice lei, se sostiene così, va bene, allora la scarichi all'appano, che è meglio. E domani mattina, allora, chiamo alla formagia, alla dottoressa, del ciclo d'accesso, ti fa la vittesa su kit, per le, ma di tu, dottorello, control, control, mentre le sue cose, per fare scaricare all'appano, insomma, le analisi su put e dai panno, va bene, grazie. Perfetto. Grazie, scusate, scusate il disubo, tante cose, arrivederci. Grazie perci. L'app, il kit, mi ricordate, l'app, il kit, kit e shazun.